Giovanissimo si arruola in Marina dove diviene incursore del COMSUBN e partecipa alla missione militare italiana in Libano dal 1982 al 1984. Inizia la sua carriera al teatro Gebel Ahmed di Erice diretto da Carlo Quartucci e Carla Tatoe. Poi a Milano, come allievo di Piero Mazzarella, di cui non è parente, debutta al cinema nel 1990 in Stanno tutti bene, diretto da Giuseppe Tornatore e successivamente in Nirvana di Gabriele Salvatores. La grande occasione gli arriva nel 1998, quando viene chiamato a interpretare il ruolo di Marcel Proust nel film Il Tempo ritrovato di Raul Ruiz, presentato al Festival di Cannes. Nel 2003 recita nel terzo episodio della serie televisiva Ultimo l'Infiltrato, nel ruolo di un boss nemico di Ultimo a fianco di Tony Sperandeo. In seguito interpreta il ruolo di Placido Rizzotto nel film omonimo diretto da Pasquale Scimega e partecipa a film Come preferisco il rumore del mare di Mimmo Calopresti. La siciliana ribelle, notturno bus di Davide Marengo, Forta Pasch di Marco Risi, Beria di Tornatore, la siciliana ribelle di Marco Mente e la miniserie televisiva Lo scandalo della banca romana. Nel 2014 firma il soggetto del film Viaggio di Scimecca.